Ciao a tutti! Oggi prepareremo il sorbetto al limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più 8 ore per il raffreddamento in freezer. Gli ingredienti sono acqua, zucchero, succo di limone, albume e limoncello che è facoltativo. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale 450 g d'acqua e lo zucchero. E facciamo cuocere per 6 minuti, 100 gradi, velocità 3. Aggiungiamo il limoncello, il resto dell'acqua e il succo di limone. E facciamo amalgamare per un minuto a velocità 3. Aggiungiamo l'albume e facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 4. Trasferiamo il composto in un contenitore basso e largo. Copriamolo con pellicola trasparente e riponiamolo in congelatore per almeno 8 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il composto dal freezer che si è congelato. Adesso lo andremo a tagliare a quadrotti. Dopo averlo tagliato lo metteremo nel boccale. Facciamo amantecare per 30 secondi a velocità 8 spadolando. riuniamo sul fondo e continuare per altri 30 secondi a velocità 8. Il sorbetto è pronto. Serviamolo. Sorbetto al limone. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.